Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dallo e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Minecraft Abbiamo anche la felpa super mega a tema questa volta E siamo sempre nella nostra città sospesa Ma visto che praticamente è finita Perché mancano, vabbè, qualche dettaglio in giro come l'illuminazione E sostanzialmente manca il tempio, il monumento finale che andremo a fare qua sopra Il mio ragionamento qual è stato? A parte mangiamo un po' di pane che forse è meglio Però un'idea potrebbe essere quella di fare un bel episodio in miniera Come ai vecchi tempi Anche perché ho visto che molti di voi mi chiedete Yaki perché non fai un episodio in miniera di esplorazione o cose varie? Va bene, adesso lo facciamo così siamo tutti più contenti Quindi andiamo giù sicuramente Come vedete mi sono preparato addirittura due picconi che non basteranno mai nella vita Qua ovviamente dobbiamo tornare su L'obiettivo ovviamente è trovare principalmente diamanti Così una volta per tutte ci facciamo una bella armatura Ci facciamo tutti gli strumenti, li incantiamo e facciamo cose E poi nel monumento finale potrebbe essere carino anche metterci almeno un blocco di diamante Per simboleggiare la ricchezza, l'opulenza e tutto quello che volete Qua ne abbiamo 32 Ora con 32 sono 6, 7, 8 più 7 Andiamo a 15 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 Volendo l'armatura ce la possiamo già fare Però 32 pezzi di diamanti non sono per niente tanti Quindi dobbiamo andare in miniera Avete capito? Stavo pensando ci serve qualcosa? No, 27 panini dovrebbero bastarci come Torce purtroppo non ne ho Non ho proprio carbone Neanche qui Quindi vediamo di trovare qualcosa qua giù Discesa rapida Perfetto Perché è tutto buio qua? Cosa è successo? Ok qualcosa non va Comunque volevo andare Dove abbiamo ucciso il Wither? Non so se vi ricordate Non mi ricordo se è da questa parte o dall'altra Adesso lo scopriamo vivendo Comunque queste torce sono tipo buggate Cioè guardate Io la tolgo La rimetto e fa molta più luce No non fanno luce Perché fanno così poca luce? Sta cosa è molto 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 strana Comunque mi sa che è dall'altro lato dove intendevo io Adesso vediamo un attimo No qua finisce quindi è di là Non so se vi ricordate l'episodio dove abbiamo ucciso il Wither Che abbiamo fatto un casino Ma non capisco perché è così buio C'è qualcosa che non va Io spero che voi vediate Non lo so ragazzi Fatto sta che qua c'è del carbone Ed è una buonissima cosa Carbone uguale torce Torce uguale possiamo andare dove vogliamo Torce Quindi qua se si procede Poi si arriva al famoso posto dove c'era il Wither Ok 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 Allora lì c'è lava Non vedo materiali Non vedo diamanti Qua teoricamente ho già preso tutto Però volevo andare un attimo avanti Volevo un attimo esplorarlo tra virgolette Perché comunque si era creata una bellissima caverna Grotta lì c'è del ferro per esempio Che andiamo subito a prendere Alla fine ragazzi non ci servono tanti diamanti Però in generale ci servono materiali Non possiamo essere al novantesimo episodio della serie Senza neanche un'armatura Il carbone lo prendiamo Anche se so già che tra qualche minuto sarò già con le scatole piene del carbone Qua continua ancora Oddio non me lo ricordavo così grande Non me lo ricordavo per niente così grande La redstone sinceramente la lascio lì perché non la usiamo ragazzi Qua ci sono ancora i droppi interi Non ha senso Non ha veramente senso E qua perché avevo costruito Se non altro nel mentre ci facciamo anche qualche livello che non è brutta cosa Qua mi sa che c'è della lava da qualche parte a sto punto Si va su Qual era il problema qua perché tutti sti blocchi Lo scopriremo subito con gli achidale Yeah Ah ok qua c'era della lava Uh Ah si qua era proprio dove si era buggato il weeder Mi ricordo Ora mi ricordo Dai che intanto prendiamo anche qualche punticino esperienza con il carbone Potevo Uh il piccone con fortuna è vero Ma quanto sono mongolo Vabbè noi cerchiamo i diamanti Poi al limite li prendiamo col nostro piccone di fortuna Cioè me l'ho dimenticato Vabbè noi cerchiamo i diamanti Intanto abbiamo trovato anche del ferro Poi quando li troviamo andiamo a recuperare il nostro piccone con fortuna Perché così ne recuperiamo molti di più Dovrei avercelo ancora da qualche parte il piccone con fortuna 3 Dai o almeno un blocco di diamante lo voglio trovare in questo episodio eh Adesso iniziamo a scavare in una direzione Oh no 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 stavo scherzando Iniziamo a scavare a caso di qua e troviamo i nostri tunnel No cos'è che c'è qua? Beh va bene noi scaviamo di qua Vediamo eh ho voglia di scavare proprio a caso Speriamo che questa cosa possa essere fruttuosa anche per noi Adesso mettiamo un po' di torcio ogni tanto Scusate però No niente stavo scherzando Sarà un lungo episodio in miniera Uh ferro dai Meglio che niente Ma qua esattamente a quanti blocchi siamo di altezza? Dovremmo essere abbastanza alti Cioè la bedrock dov'è? Esattamente Ok la bedrock è lì quindi ci sta a scavare qua Abbiamo già quasi finito il primo piccone di ferro Brutta cosa Qua c'è la... Che pizza la ghiaia Tentiamo di aggirare il problema Ok abbiamo superato la ghiaia Bene Primo piccone andato Però non abbiamo... Uh sono un mongolo ho finito prima Eh no Ok quando finiamo questo dobbiamo tornare perché mi sono dimenticato di fare un'altra crafting table Bravo Yaki Uh lava Dove c'è lava ci sono diamanti mi dicono Non è sempre così ok però Magari c'è una grotta Adesso vediamo un attimo di esplorare qui Possibilmente senza farsi del male Non sto capendo E dove sono sti diamanti? Ma quante lava c'è scusate? Madonna stavo per finire dentro Oh eccola qui la caverna Caverna che abbiamo già esplorato tra l'altro Siamo tornati in un punto già visto Che bello Cioè boh vedo le torce Quindi ci siano stati Non so quando Non so come Ma evidentemente ciò è accaduto Se no non saremmo qua Proviamo qua raga Vediamo cosa succede Siete pronti? Boom Ok non è successo niente perché è andato tutto nella lava Allora qua si andava di qua e poi Lassù non c'è niente Sicuri? Ma soprattutto io quando ci sono arrivato qua Uh oro Interessante Ma sta acqua da dove arriva Non ha senso È tutto buggato Tutto Facciamo così vala Oh Vedo posti che non ho esplorato Guardate la Bruttissimissime cose Tolto che teoricamente non ho niente da perdere Però qua c'è un posto immenso Oddio No raga io ho paurissima Sento rumori ma non li vedo Ma sta caverna è gigantesca raga Non ci sono mai stato soprattutto Quindi non troverò mai l'uscita qua Eh? Raga non vorrei dirvelo ma ci stiamo inesorabilmente perdendo Se non altro io finché prendo del ferro Sono contento eh Sarebbe vero trovare dei diamanti Diamanti che a sto punto Se per caso li troviamo Li prendiamo Con quel poco di piccone che ci basta Perché da qui non torniamo più a casa Io ve lo dico Ma conoscendo le mie esperienze in caverna La vedo abbastanza dura Soprattutto perché siamo arrivati da un posto a caso E qua continua No meno male Allora Iniziamo a dare ordine nella forza Lì vedo delle torce Domanda Sono torce che ho messo io O sono sì 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 Ok ci siamo ricongiunti in un punto Che non so dove sia Ma quanto è grande sta cosa Ma perché non avevo preso sti materiali Cioè l'oro è pur sempre oro Ok che serve solo per le rotaie Praticamente noi abbiamo rotaie infinite Ma tutte quelle torce lì? Eh? Cosa? Mai stato qua Eh? Ma poi materiali dappertutto Niente poi vi chiedete perché Non voglio fare un episodio in miniera Perché finisce sempre così Cioè se vado io da solo con calma Faccio tutto tranquillo Ma siccome se devo fare il video Devo trovare chiaramente qualcosa Mi viene voglia di esplorare E di andare un po' a caso in giro E mi ritrovo in una caverna Più grande di tutto Caverna che ho esplorato evidentemente Migliaia di anni fa Dove non ho neanche preso i materiali Adesso ci finisce il piccone E noi non possiamo fare più niente Quindi sarebbe bene trovare un'uscita Adesso la troviamo Fidatevi Allora io metto sempre le torce a destra Quindi tenendole alla sinistra Torniamo a casa Ho capito dove siamo Sì 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 Calmi tutti Qua Avevo messo tante torce perché Per segnalare qualcosa Noi siamo arrivati da qui Vero? O da lì Che poi sapete che se finiamo il piccone Non possiamo neanche dire Ehi scaviamo tutto a mano E torniamo a casa? Quindi sarebbe bene anche un attimo Conservarlo Allora 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 Proviamo ad andare di là A sto punto Ma è strano che sta caverna così grande Io l'abbia esplorata E non abbia preso i materiali Però mi ricordo dei pezzi Qua Può essere? Teniamo le torce a sinistra Vediamo dove ci portano Ma qua sembra che sia via un'uscita E forse ci siamo Prendiamo l'ultimo poco ferro Che c'è qui Che in realtà è sempre ferro E ci fa sempre comodo E poi andiamo su Ragazzi mi sa che ci siamo Ci siamo mica tanto però Ah sapete che so dove possiamo essere Siamo sotto tipo il mob spawner Eh sì che avevo messo un sacco di torce Per evitare Cioè il mob spawner Che avevo costruito Che poi avevo distrutto Ok qui qui non ne usciamo più ragazzi Eh ve lo giuro Perché io qua le torce Le avevo messe a caso Non stavo esplorando Ora mi ricordo tutto Cioè con così tante torce Possiamo essere solo lì È l'unica veramente Però boh stiamo salendo Quindi non dovrebbe essere lontana Un'eventuale uscita Adesso seguiamo il mio istinto E fidatevi che la troveremo Sì 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 È l'unica spiegazione Ma quanti materiali Ci siamo persi Questa ragazzi è la famosa grotta Super mega gigante Che non ho mai esplorato Tutto torna Incredibile Che poi qui dove si va Boh No 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 Dopo questo episodio Tornerò a cerchiare diamanti Nel modo più classico possibile Immaginabile Scavando il mio tunnel Ciao ciao grotte Perché non è possibile Questa qui è gigante E il colmo appunto è che È illuminata tutta Perché io l'avevo illuminata Tutta apposta Per evitare che Nascessero mob Qua sotto In modo che Nascessero nel Bob spawner Quindi oltre a non funzionare Perché sta laggando tutto adesso No ragazzi Io credo che questa Mani bassa sia tipo La grotta più grande Che abbia mai esplorato Cioè guardate Qua ci sono ancora punti Non illuminati Io ci avevo passato una vita A illuminarla E io adesso salgo Saliamo il più possibile E poi vediamo Di fare un buco Dai non può avere senso No spero che non ne abbia Io mi fermo qui Io ve lo dico Qua che c'è la terra Andiamo su Non so quanti blocchi Siamo giù Invece no Siamo già Siamo già su Perfetto Meglio di quanto pensassi Vediamo se siamo Dove dico io Secondo me sì Siamo per forza Dove dico io Dove siamo? Lì dove c'era il mob spawner Ve l'avevo detto Ne so troppe ragazzi Ci manca solo Aver brutte sorprese Sta laggando tutto Non chiedetemi Per quale motivo Niente Volevate l'episodio In miniera Io non lo voglio Corri Yaki Corri Ah mi sa che era Il coso delle galline Che faceva laggare Tutto quanto Eh sì Eh sì Ora è tutto più bello No ragazzi Guardate che storia Guardate che storia La città vista dal basso Tanta roba Tantissima Ciao Andiamo a farci Sta benedetta armatura Così siete contenti L'elitra Io l'avevo anche riparata Mi ricordo Poi l'avevo lasciata Qua sotto Poi ero morto Erano successe varie cose Dovrebbe essere qua Dovrebbe essere con full vita Addirittura Perfetto Quindi non ci facciamo La chest late Perché tanto Terrò sempre l'elitra Ce la posso fare Ok Mamma mia Quanto siamo belli ragazzi Ora Mi toccherà Farmare esperienza E incantare tutto quanto Così siete contenti Perché veramente Metà dei commenti Che leggevo Erano Io che sei al novantesimo episodio Quasi non hai neanche Incantato le cose Che dire Dai Finalmente Adesso ci mettiamo anche Con la spada Il piccone Possiamo fare i fighi Però guardate quanto siamo fieri così Cioè Fatto sta che per il momento Dai a chi dare Dalla nostra super mega Nuova armatura in diamante Era tutto E niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo Video Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo